Polinas, nettamente la più veloce, in seconda posizione Prometeo Rab, in terza Pisellino e in quarta Pablo Del Ronco. Così si delineano le posizioni, con Polinas che percorre i 200 iniziali in 15 secchi, il favorito Prometeo Rab in seconda posizione, precede Pisellino e Pablo. E tra l'altro questi sono i maggiori candidati a giocarsi il successo, 30 e mezzo il quarto iniziale, ha chiuso, netto favorito 1 euro e 49, Prometeo Rab. Rab segue Polinas, che tiene discreta andatura, 47,600. Polinas, Prometeo, Pisellino e Pablo. A largo si fa vedere Piacam, anzi si tratta di Piragna. Giro di pista in 1,3 scarsi. Polinas, filata da Prometeo e Pisellino, poi Pablo Del Ronco, che per un attimo si aggancia con Piragna. Chilometro, percorso in 1,18,5. Polinas continua, seguita sempre da Prometeo e Pisellino, Pablo Del Ronco che in cerca di Varco. Il galoppo di Piragna, tre quarti di migliorno, 1,33,5. Adesso Prometeo sposta i fianchi di Polinas, muove anche Pablo Del Ronco che va ad attaccare Pisellino. Retto d'arrivo. Prometeo Rab sta passando su Polinas che è ferma. Poi interviene Pablo Del Ronco, metri conclusivi, Prometeo per il secondo. Polinas respinge Pablo Del Ronco. Media probabile di 1,17,5. Vince ancora il favorito, 1,49 euro. Prometeo Rab che è Gennaro Oscherillo guida nel migliore dei modi e lo porta ad imporsi chiaramente nei confronti di Polinas. Veloce ma poco tenace. Comunque buon secondo. Al terzo, Pablo Del Ronco. Buono per la prossima è il 14, Paterno di Lima, che guadagna molte posizioni nella parte finale della gara e conclude al quinto posto.